Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Giochi con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo insieme ad un'applicazione di Taptail, un'applicazione che si chiama Crazy Nursery, ovvero in italiano Pazzo Nido, cura dei bambini. Eccoci qui, questa è la schermata. Adesso noi schiacciamo play e andiamo subito a giocare al nostro nido pazzo. Infatti siamo all'interno di un asino nido. Eccoci qui, ci dando il benvenuto. E dobbiamo controllare che sia tutto posto nelle varie stanze. Qui, ad esempio, dobbiamo assicurarci che i bambini facciano dei bei sogni. Quindi, per prima cosa, possiamo decorare il lenzuolino di queste culle in cui dormono i bambini. Vedete, ci sono diversi colori e anche diverse decorazioni. Ecco fatto. Ecco qui i bambini. Abbiamo anche questa giustrina. Questo gioco è probabilmente pensato per imparare le forme. Quindi mettiamo tutto al suo posto. E facciamo suonare questa giustrina musicale, questo carillon, che fa addormentare i bambini. Però qualcuno si sveglia. Questo bambino, ad esempio, ha fame. Quindi vuole il suo latte. Quest'altro, invece, vorrebbe giocare. Quindi diamo il suonaglino. Oh, questo si è addormentato. Quindi forse non vuole più mangiare. In questo caso, dobbiamo trovare il drago. Oh, poi c'è anche l'altro. Che vuole il suonaglino. No! Il tempo sta scadendo. Ecco fatto, perfetto. Siamo riusciti. Ah, e quindi da questa parte, a sinistra, ci sono gli altri pupazzi che prima non avevamo visto. Ok, benissimo. Quindi l'orsacchiotto per te. Ok. Ecco il drago. Eccolo qui. Perfetto. E adesso l'orsacchiotto azzurro. Benissimo. La giustrina. Dobbiamo farla suonare. Così i bambini sono contenti. Il leoncino. Il drago. Dobbiamo accontentare i bambini e le loro richieste. Ecco il suonaglino. Benissimo. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro. E possiamo proseguire qui all'interno del nostro asilo nido. Ok. Ah, però siamo nella schermata di prima, quindi dobbiamo rifare, diciamo, lo stesso gioco. Quindi direi che possiamo uscire per vedere se c'è qualcosa di nuovo che possiamo esplorare. Ad esempio questo. Qui c'è la stanza per il bagnetto. Benissimo. Quindi dobbiamo fare un bel bagno caldo. A questi bambini un bagno con tante bolle ci viene richiesto. Quindi mettiamo questo bagno schiuma. Ecco qui. Insaponiamo bene. E adesso sciacquiamo. Tutte queste bolle, vedete? E adesso asciughiamo la bambina con questo asciugamano e poi mettiamo anche un po' di borotalco. Possiamo anche cambiare il pannonino e decorarlo a nostro piacimento. Qui ci sono vari colori. Questo fucsia. Possiamo scegliere il colore che più ci piace. Rosso. Qui ci sono delle fantasie, come questi quadrifogli. Ci piace questo. E adesso c'è qui un altro bambino, anche lui che aspetta il bagnetto. Quindi lo immergiamo. Splash! Insaponiamo. Facciamo tutte queste bollicine. asciacquiamo. 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 E adesso lo asciughiamo. Poi mettiamo il talco e cambiamo il pannonino. Possiamo anche disegnare, se vogliamo. Vedete, possiamo fare dei puntini. non sono venuti benissimo, però. Possiamo, appunto, provare a disegnare. e abbiamo messo questa fantasia con le stelline. Adesso abbiamo un'altra bambina a cui dobbiamo fare il bagnetto, quindi stessa cosa di prima. Mettiamo il bagno schiuma che fa tutte queste bollicine e immergiamo la nostra amichetta. La insaponiamo per bene e poi sciacquiamo. Adesso l'asciughiamo. Prendiamo l'asciugamano. Mettiamo il talco. Tutta profumata. E adesso cambiamo il pannolino. Benissimo! Quindi questo era il pazzo nido cura dei bambini. Se il video vi è piaciuto pollice in su condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al mio canale così da essere sempre informati sui nuovi video. Io vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Grazie a tutti.